Siamo qua e inauguriamo questa mostra al Palazzo Vittone, che è frutto di un lavoro comune e congiunto molto bello tra il Festival del Mutualismo, che è partito oggi, e la Pinacoteca di Pinerolo sul tema del lavoro, sul tema del mutualismo e del lavoro, e quindi un'occasione per mettere in luce alcuni pezzi della Pinacoteca, della nostra collezione civica, legati sostanzialmente al momento dell'industrializzazione qua nel territorio pinerolese e dell'arte che al servizio di queste industrie, di queste imprese e di questo mondo del lavoro si è prestata in quegli anni lì e che ha prodotto opere che oggi sono qui in esposizione e che invitiamo tutti quanti a venire a vedere.